Sono due giorni che ricevo telefonate su questa mia ipotetica partecipazione a Sanremo. Io non so cantare, ma i socialisti gaudenti mi hanno fatto uno scherzetto troppo simpatico. Ma tra poco sapremo se effettivamente sono a Sanremo, una nuova cantante. Siete divertenti però, mi sono molto divertita e ci sono caduti in tanti.